Lo scenario descritto dalle carte dell'inchiesta che ha portato ieri al clamoroso arresto del sindaco di Foggia Franco Landella. Lunedì lo scioglimento del Consiglio Comunale di Foggia, l'incognita della commissione di accesso agli atti sul voto ad ottobre. A Manfredonia un ragazzo disabile costretto a vivere in un container in una condizione di totale degrado. Si attendono novità sul futuro del Foggia, i vertici societari chiamati a decidere sulla conferma del tecnico Marchionni. Buongiorno dal telegiornale di Teleblu e benvenuti all'edizione del sabato. Proclività a delinquere da colletto bianco, così viene descritto il sindaco di Foggia Franco Landella, da ieri agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione e tentata concussione. La sintesi del GIP Antonio Sicuranza nel servizio di apertura affidato al nostro Luca Pernice. Proclività a delinquere da colletto bianco del sindaco Franco Landella, non a caso capace di venire a conoscenza di dati investigativi che dovevano rimanere ancora coperti dal segreto istruttorio. Così viene descritto il sindaco dimissionario di Foggia Franco Landella agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione e tentata concussione. Con lui, per la vicenda della corruzione, sono andate gli arresti domiciliari consiglieri comunali Antonio Capotosto, Dario Iacovangelo e l'imprenditore edile Paolo Tonti. Nell'inchesso è coinvolta anche la moglie di Landella, Daniela Di Donna, che ha ottenuto la misura interdittiva della sospensione per dieci mesi dall'esercizio del pubblico ufficio. Al centro di questa ipotesi accusatoria il pagamento di una tangente di almeno 32.000 euro per ottenere per la società dell'imprenditore Latonti Raffaele Co. RSRL il rinnovo di una proroga urbanistica. Un sindaco spregiudicato, come scrive lo stesso GIP che ha firmato l'ordinanza, parlando dell'ipotesi della concussione al titolare della ditta interessata al subentro nel progetto per la pubblica illuminazione a Foggia. Spregiudicatezza dimostrata da Landella, scrive il GIP, capace di chiedere solo per se stesso l'adazione della somma di denaro di ben 300.000 euro e capace di mandare a Monti i lavori per la modernizzazione della rete di illuminazione per la città di Foggia. Spregiudicatezza palesatasi anche con la sua attività di collettore delle somme versate da tonti, così da distribuirle ai consiglieri amici grazie alla moglie di donna, descritta come la cartiera che ha fatto la distribuzione di beni al ridosso del Natale. E al Tg Blu interviene il legale di Landella, Michele Cusutotti, che si dice pronto a raccontare tutto. Lo ha intervistato per noi Luca Pernice. Avvocato, rispetto alle accuse che sono state formulate al sindaco di Foggia, qual è la posizione del suo assistito? Lui proclama la sua assoluta esternità da questi fatti e finalmente adesso avremo l'interrogatorio di garanzia in cui potremo ricevere le contestazioni in modo formale e poter rispondere, speriamo, chiarire tutti gli addebiti. Un'accusa che si basa essenzialmente sulle dichiarazioni di Iac Carrino? Sì, sinceramente per il secondo capo di votazione, quello relativo alla presunta tangente Tonti, l'unico riferimento sono proprio le dichiarazioni di Iac Carrino, mentre per la prima ipotesi il conforto verrebbe da questo imprenditore che asserisce di aver ricevuto queste richieste conclusive, che si dichiara lui stesso, e lo dice anche Iac Carrino, fraterno amico. Il sindaco Landella era stato ascoltato qualche giorno prima? Era stato ascoltato su nostra richiesta, aveva anche chiesto ai pubblici ministeri che se c'erano altre questioni era pronto a chiarirle, di fargli domande, la procura non ha inteso farlo, ora, alla luce dell'intervenuto provvedimento sappiamo che l'ho fatto perché la richiesta cautelare era stata già avanzata, però rimane sotto questo aspetto una certa amarezza perché si potevano chiarire tante cose già in quella sede, di fronte a un indagato che si presenta senza avere contezza degli atti, forse poteva essere opportuno già ascoltarlo. Ci si aspetta adesso l'interrogatorio di garanzia, quale sarà la linea difensiva? La linea difensiva è quella di provare a chiarire queste contestazioni sulla base, qui abbiamo una persona che ci accusa di cose molto particolari anche per le modalità, si parla di tangenti che sarebbero state distribuite negli uffici comunali come se fossero carte che potessero essere date così tranquillamente davanti a tutti, già questo ci fa nutrire qualche perplessità. Il sindaco spiegherà soprattutto quello che può spiegare, cioè la bontà dell'operazione di riconoscimento per il tonti della proroga che era semplicemente un mettere in linea questo progetto con i tanti altri che avevano avuto la scadenza decennale, riconosciuta da tutti, anche dalle opposizioni, e quindi che non c'era nessun atto contrario di un ufficio e che era tutto stato fatto regolarmente. Poi naturalmente in questi giorni leggeremo tutti gli atti perché finalmente possiamo accedere e sulla base di quelli risponderemo a ogni contestazione. E ovviamente quella di ieri è stata una giornata caldissima sul fronte politico, soprattutto per il centro-destra. Tutte le reazioni e i commenti alla bufera giudiziaria che si è abbattuta sul comune di Foggia in questo servizio curato da Paolo Ruotolo. L'imbarazzo c'è e si vede tutto. Nel centro-destra la giornata della bufera giudiziaria è stata vissuta con trepidazione e difficoltà nello scegliere le parole giuste. Forza Italia e Lega hanno atteso il tardo pomeriggio per consegnare alla stampa i loro commenti. Hanno aspettato di conoscere i particolari delle inchieste che hanno portato all'arresto del sindaco. Sia gli azzurri sia il carroccio non lasciano fuori dalle note stampa il richiamo al principio garantista e alla presunzione di non colpevolezza, legandoli però alla fiducia nella magistratura e nel lavoro degli inquirenti. Forza Italia parla di un clima politico deteriorato nell'ultimo periodo amministrativo, mentre la Lega ricorda di aver chiesto al sindaco le dimissioni per l'impossibilità di andare avanti in questo clima. Per il momento tuttavia il partito di Matteo Salvini non ha adottato alcun provvedimento nei confronti di Franco Landella, finito agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione e tentata concussione. Una linea molto diversa da quella seguita nella coalizione da Fratelli d'Italia, il cui commissario provinciale Galeazzo Bignami, appena giunto a Foggia, deferì con richiesta di espulsione uno dopo l'altro tutti gli esponenti di partito coinvolti in vicende poco chiare. E infatti Bignami è l'unico a parlare con toni decisi e netti nella giornata degli arresti. Chiunque pensi di poter piegare il proprio incarico a scopi diversi dall'interesse pubblico non solo non avrà mai sostegno di Fratelli d'Italia, dice Bignami, ma contrasteremo in ogni modo condotte del genere. Dall'altra parte della barricata, ovviamente, i toni d'accusa sono alti. Pippo Cavaliere parla di un consiglio comunale ormai contaminato da un diffuso e inquietante sistema corruttivo. Il Movimento 5 Stelle invita chi sa a collaborare, chiedendo di trasformare una sciagura in un momento di riscatto per la comunità. Il Partito Democratico ricorda di aver chiesto da mesi la fine di questo stilicidio, impedita dall'arroganza del sindaco e dagli ignavia dei consiglieri di maggioranza, auspicando che adesso la città sia affidata alle cure dello Stato, nell'attesa del pronunciamento della Commissione di Accesso agli Atti. Durissimo l'ex consigliere comunale Giuseppe Mainiero, forse il più intransigente oppositore di Landella, nel suo primo mandato. «Avevo denunciato per tempo la deriva che sta emergendo dalle indagini», dichiara Mainiero, «e per questo sono stato isolato dal centrodestra. Sono in molti a dover fare mea culpa, perché questo epilogo è soprattutto responsabilità di chi poteva agire e non l'ha fatto». Mi chiedo se adesso, come è accaduto in tutta fretta dopo gli arresti di Iaccarino e Capotosto, aggiunge Mainiero, la giunta degli esperti avrà il coraggio di riunirsi d'urgenza per costituire il comune parte l'ESA contro Franco Landella. Dopo l'arresto di Franco Landella e la sua sospensione da parte del prefetto Grassi, lunedì il Consiglio Comunale sarà ufficialmente sciolto. A Palazzo di Città si inserirà quindi una commissione guidata da un commissario prefettizio, la cui permanenza sarà legata ai tempi e all'esito del lavoro della commissione di accesso agli atti, una vera e propria corsa ad ostacoli verso il vuoto. Di nuovo ruotolo. Altre due dimissioni e una sospensione si aggiungono a quelle che hanno praticamente decimato il Consiglio Comunale. Dopo gli arresti di ieri, il prefetto Raffaele Grassi ha sospeso il sindaco di missionario Franco Landella e il consigliere Dario Iacovangelo, che si è dimesso qualche ora più tardi, mentre dall'Aggiunta Comunale, che resterà comunque in carica fino al 24 maggio, si è chiamata fuori l'assessore alle attività economiche Barbara Caffarelli. A mezzanotte di lunedì, non essendo Landella nella condizione di ritirare le sue dimissioni, il Consiglio Comunale sarà ufficialmente sciolto. Martedì dunque l'autoscioglimento porterà a Palazzo di Città un commissario prefettizio, la cui attività sarà però legata ai tempi e all'esito del lavoro della commissione di accesso agli atti. Come anticipato dal Tg Blue nei giorni scorsi, nel caso in cui i commissari inviati dal Ministero dell'Interno dovessero consegnare al prefetto la loro relazione al termine dei tre mesi, chiedendo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, il Comune resterebbe commissariato per un periodo fino a 24 mesi, uscendo così dalla finestra delle amministrative di ottobre, in cui adesso è formalmente inserita Foggia. Se invece la commissione non dovesse propendere per lo scioglimento, i foggiani, come detto, andranno naturalmente alle urne nell'autunno del 2021. Se la commissione dovesse chiedere poi una proroga di altri tre mesi, Foggia si preparerebbe al voto con una campagna elettorale sui generis, condotta con la spada di Damocle di un pronunciamento della commissione che potrebbe arrivare ad elezioni già avvenute. Qualora in questa circostanza la commissione dovesse proporre lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose, al nuovo sindaco potrebbero essere imposte semplicemente una serie di prescrizioni per bonificare l'attività amministrativa. Nel caso in cui la commissione proponesse lo scioglimento del Consiglio ad elezioni celebrate e fossero elette personalità dichiarate incandidabili dalla relazione consegnata al prefetto e trasmessa al Consiglio dei Ministri invece, l'assemblea correrebbe il serio rischio di essere sciolta e il Comune nuovamente commissariato. Di gran lunga lo scenario più complesso per i partiti, chiamati a quel punto a compilare le liste valutando evidentemente ogni opportunità e forza soppesando attentamente addirittura ogni eventuale sospetto. E dopo questa lunga pagina dedicata al caso Landella ci spostiamo in provincia. Continua il dramma di Giuseppe Pio, il ragazzo disabile di Manfredonia, costretto ancora a vivere in un container in condizioni di assoluto degrado. L'appello del nonno risposto a donare un terreno in cambio di una casa per il nipote. Vediamo. Torniamo a parlare del caso Giuseppe Pio Quitadamo, il ragazzo disabile di Manfredonia, costretto a vivere ancora in un container nonostante i numerosi appelli inviati alle istituzioni locali. Oggi ci troviamo in un terreno di proprietà del nonno, nonno Giuseppe, che lo mette a disposizione di qualsiasi costruttore locale e non per poter costruire una casa degna al piccolo Giuseppe. Ecco, ci spieghi meglio che cosa lei vuole donare al costruttore interessato? Allora, così com'è questo appezzamento, qui verrebbe, sono tre lotti da 900 metri quadri l'una, quindi io metto a disposizione questo terreno, cioè due lotti, e nel terzo di costruire una casetta 80-100 metri quadri, un po' sartesiano, una recinzione e due pannelli solari. La corrente già ci sta, molte persone già stanno qua, quindi è abbastanza popolato questa zona, che è zona artigianale, in attesa. Questo è a beneficio di mio nipote, io metto a disposizione questi due lotti da 900 metri quadri l'una. Ecco, quando lei dice a disposizione, quando lei dice metto a disposizione, lo dà a titolo gratuito questo terreno? Cioè, in compenso di costruire l'interessato, no? Che si impegna a costruire per mio nipote questa casetta 80-100 metri quadri. Ecco, questo metto a disposizione io. Per contattarmi basta telefonare al numero cellulare 338 47 18 995. Questo è Giuseppe Guidadamo, che sono il nono di Giuseppe Pio Guidadamo. Questo è, sperando che qualcuno possa comprendere la situazione, non per me ma per mio nipote, per dare un avvenire degno, degno di una vita tranquilla e quant'altro. Un musicista di Manfredonia nel mirino di omofobi che lo hanno insultato lanciandogli bottigliette di vetro. Solo la casualità ha evitato la tragedia. Il Tg Blu ha raccolto la testimonianza della vittima. Fabio Trimigno, dopo l'attacco omofobo che ha subito su lungomare di Manfredonia, si è rifugiato nella sua casa di campagna a Macchia. Ci racconti che cosa è successo? Allora, martedì 18 passeggiavo sul lungomare di Manfredonia, all'altezza del Luc, il laboratorio urbano-culturale, che costeggia poi, diciamo, l'antico torrione che sorregge Piazza Mercato, Piazzetta Mercato, che è una sorta di veranda che si affaccia sul mare. Per raggiungere la mia autovettura e tornare a casa, quindi erano le otto e mezza circa, e mi arriva, nel momento in cui prendo il cellulare per chiamare Roberto, il mio compagno, mi arriva una bottiglia di vetro di birra vuota dall'alto che mi sfiora il naso, cioè proprio all'altezza del naso, così, ma in una velocità e anche con violenza. Quindi mi rendo conto che era stata lanciata, anche perché io ero al bordo del marciapiede, quindi sicuramente non cadeva così la bottiglia accidentalmente, no? Da un muretto, ma cadeva proprio a 45 gradi, proprio a prendermi come bersaglio. Ok, io rimanco, un po' così alzo la testa per capire un po', e ovviamente vedo dei ragazzi da 17, 18, 19 anni, insomma, che chi fumava, poi con le mascherine, chi beveva, ragazze anche, ma a seguito del primo lancio, perché non sono state, cioè sono state più di una bottiglia, sento, diciamo, una sorta di scimmiottamento al mio nome, e questa cosa ovviamente con, non è che ci sono state, come dire, degli insulti, degli insulti omofobi, e subito chiamo il 113, mi identifico, racconto l'accaduto, e sottolineo che sicuramente è fatta apposta, cioè su di me, perché io sento il mio nome, cioè sento, uh, Fabio, cioè così proprio, quindi mi rendo conto che è una cosa grave. Ovviamente adesso tu aspetti che venga fatta giustizia. Sì, ovviamente giustizia, ma che questo esempio anche, diciamo, sia trasformare una cosa negativa in positiva, cioè nel senso che io spero che questo esempio porti a fare anche un po' di scuola nella propria famiglia, cioè a capire che la gente deve essere rispettata per quella che è, a prescindere dall'orientamento sessuale, insomma. E voltiamo decisamente pagina, dal prossimo 25 maggio riapriranno le scuole di danza, una boccata d'ossigeno per i numerosi operatori pugliesi che a causa della pandemia sono stati costretti a restare a casa per molto tempo. La lunga attesa sta per terminare, le scuole di danza stanno per riaprire i battenti. Dal 24 di maggio riprenderanno le attività in presenza dopo mesi di sofferenze e di distacco dagli allievi. Si ripartirà quindi con grande emozione e con la consapevolezza di poterlo fare in sicurezza. Siamo pronte e con molta soddisfazione perché abbiamo lasciato questi ragazzi per tanto tempo privati proprio di questa grande passione. Quindi ora ricominciare in presenza, perché è la cosa che tutti quanti attendavamo, questo ci ha resi davvero felici. I ragazzi possono riprendere il movimento, trovare il benessere fisico, il benessere interiore, lo stimolo a ritrovarsi, perché per quanto hanno lavorato online, eccetera, ritrovarsi dal vivo in presenza sarà un'emozione davvero importante. Chiaramente la ripartenza è sempre in sicurezza, seguiamo quelli che sono i protocolli, come già avevamo fatto e continueremo a fare, quindi il distanziamento in sala di due metri, l'igienizzazione dei locali prima e dopo le lezioni, i ragazzi entreranno con la mascherina, quindi potranno usare gli spolleatoi ma non le docce, quindi quelli che sono i protocolli che dobbiamo eseguire in sicurezza, in totale sicurezza. I mesi della chiusura sono stati caratterizzati dalle lezioni a distanza e da quelle all'aperto, attività che hanno tenuto vicine le famiglie e le scuole. È stato un periodo particolare, avevamo la responsabilità di continuare ad alimentare questa fiammella, questa passione. Oggi dico che sono state tutte delle belle esperienze, nel senso che le video lezioni inizialmente sono state prese con grande gioia, poi forse sono durate un po' troppo. Le lezioni all'aperto anche, perché ci hanno messo in una modalità comunque differente, mi piace pensare che al di là di tutto si possa riproporre, non per forza per via del Covid. Noi ci teniamo a ringraziare le famiglie, perché sappiamo bene che gli aiuti non sono stati quelli che speravamo, però oggi non ci vogliamo lamentare, noi non ci lamentiamo, noi vogliamo solo lavorare, vogliamo solo lavorare e quindi ringraziamo le famiglie che hanno continuato ad affidarci anche in queste modalità differenti, i loro figli e hanno continuato a sostenere le nostre strutture. Ora è arrivato il momento di tornare a danzare, giugno sarà il mese della rinascita e della gioia. Per noi giugno era il mese del saggio a conclusione di un anno accademico e adesso con grande gioia sarà una festa, ritornare tutti in presenza e riavere tutti i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, per un grande ritorno in sicurezza. E chiudiamo con il calcio, si attendono novità sul futuro del Foggia, i vertici societari sono chiamati a decidere sulla conferma del tecnico Marchionni e sul direttore tecnico Nini Corda, decisioni dalle quali ripartire per programmare la prossima stagione. Ascoltiamo il servizio di Tiziano Enrichiello. È tempo di rompere le righe in casa Foggia all'indomani della sconfitta al San Nicola di Bari che ha messo la parola fine alla stagione agonistica dei rossoneri. I calciatori nella giornata di giovedì si sono ritrovati insieme a pranzo e dopo aver recuperato tutti gli effetti personali hanno lasciato Foggia per le meritate vacanze dopo un'annata che è stata particolarmente logorante, ma piena di soddisfazioni per un gruppo ed un tecnico che erano chiamati a raggiungere l'obiettivo di una tranquilla salvezza e che invece hanno raggiunto la zona playoff che a conti fatti è stato come aver vinto un campionato. Foggia ha i titoli di coda e che da oggi volta pagina perché c'è da programmare e mettere mano al progetto per la prossima stagione. Futuro rossonero che non può prescindere dalla conferma del tecnico Marchionni che merita la seconda chance dopo l'ottimo lavoro svolto la sua prima esperienza da allenatore è tra mille difficoltà, ma che non può prescindere dalla scelta del direttore sportivo che dovrebbe in sintonia con l'allenatore scegliere quali calciatori confermare e su quali puntare per alzare l'asticella per il prossimo campionato di Serie C. Terza serie nazionale che l'anno prossimo vedrà i nastri di partenza club blasonati come il Pescara e il Cosenza più le altre che già hanno fatto parte del Girone C. Decisioni che non dipendono solo dai diretti interessati ma soprattutto dalla volontà della proprietà di continuare il rapporto di collaborazione con gli stessi. Corda, che come si sa è legato al Foggia da un contratto a tempo indeterminato ed il tecnico che attende solo un cenno per mettere nero su bianco anche in segno di gratitudine verso il club che ha creduto in lui e con il quale l'allenatore è intenzionato a sposare un progetto valido che gli permetta di ben figurare nella prossima annata calcistica. Ripartire dal gruppo calciatori che più di tutti ha fornito le garanzie al tecnico di Monte Rotondo elementi come Fumagalli, Rocca, Curcio, Del Prete se in condizioni ottimali Germinio, Di Enno, Morrone giusto per fare solo qualche nome di chi ha avuto un rendimento positivo nella stagione appena conclusa ed intorno a questi inserire quei calciatori di categoria ed under di assoluto livello che possano rinforzare un telaio già di per sé importante ma siamo certi che la compagine societaria abbia le idee molto chiare su ciò che bisognerà fare e prima di giudicare l'operato attendiamo che le parole facciano spazio ai fatti Il telegiornale termina qui grazie per la gentile attenzione prestata a voi tutti buon proseguimento di giornata e buon fine settimana Grazie a tutti i nostri spazio ai fatti